Io parto sempre dal presupposto che un cliente contento è un cliente informato. Sono Faustino Imanuele, consulente finanziario indipendente della IoInvesto SCF. Il mio approccio principale per poter costruire fiducia in un rapporto consulenziale è principalmente quello di riuscire a curare le esigenze della persona, quindi capire quali sono le esigenze, capire qual è il background culturale e riuscire insieme, in un rapporto professionale, a curare tutte le inefficienze e ogni dubbio. In questo caso era capitato un imprenditore che aveva deciso di investire i propri soldi con la banca. Nel suo caso specifico aveva diverse perdite e diverse inefficienze di portafoglio. Ovviamente lavorando principalmente sulle sue conoscenze finanziarie e sulle alternative di mercato, siamo riusciti ad abbattere i costi per più del 50% e ovviamente a renderlo molto più soddisfatto dei propri profitti. Io parto sempre dal presupposto che un cliente contento è un cliente informato. Che cosa intendo? Semplicemente che la trasparenza nel percorso di consulenza ci permette di trasferire tutto il know-how del consulente direttamente al cliente. In questo modo lui sarà sicuro di come funzionano i mercati finanziari ed essere tranquillo in qualsiasi scenario. La domanda più controversa da un punto di vista tecnico ma che è normale per chi non mastica la materia è il poter massimizzare i rendimenti rischiando lo meno possibile. Questo ovviamente per discorsi tecnici è veramente difficile ma non impossibile se vengono utilizzati i giusti strumenti.